Oggi la questione centrale è il presidio ospedaliero centrale che è santissimo annunziato, il Moscati e il San Marco. Perché noi intorno a questo grande presidio dobbiamo ricostruire il percorso della cura sanitaria. Un incontro importante, così l'onorevole Ludovico Vico ha definito la riunione che si è tenuta questa mattina con i medici e i primari del Moscati di Taranto, in cui Vico ha potuto visitare il polo oncologico. Qui va costruito e rafforzato il polo oncologico. La necessità è di ripartire con pneumologia, emoncologia pediatrica e cardiologia oncologica. Questo mi spinge anche a considerare che è opportuno costruire per i primi di settembre, soprattutto per ottobre e novembre, una unità sostanziale tra ciò che sarà il piano di riordino ospedaliero calibrato sul futuro. In parole povere va chiesto per Taranto un intervento straordinario, spiega Vico. Abbiamo bisogno che il piano di riordino sia rivisto, aggiornato, dentro due tappe, quello che deve fare e quello che deve fare successivamente con l'intervento nazionale. E però, insisto, c'è bisogno di costruire un tavolo pacifico, pacifico, pacifico fra il direttore, fra Gorgoni, fra il presidente della regione, i consiglieri regionali, i parlamentari, i sindaci.